Oggi parliamo di snack per il nostro pet, in particolare delle banane, uno spuntino naturale che possiamo offrire al nostro cane, ma sempre con moderazione. Le banane sono ricche di nutrienti che possono apportare benefici alla salute del cane. Contengono soprattutto carboidrati, fibre, potassio, vitamina C e vitamina B6. Ma non bisogna mai esagerare. Per il cane, le banane possono essere un'aggiunta occasionale, non un alimento base. Un cane di taglia grande può mangiare circa mezza banana ogni tre giorni, mentre per i cani di piccola taglia basta un pezzetto o due saltuariamente. Ricorda che almeno il 90% della dieta del cane dovrebbe provenire da cibo apposito e solo il 10% può essere riservato a snack come frutta e verdura. Anche i cuccioli possono mangiare la banana, ma in quantità ancora più ridotte. Un paio di fettine una volta alla settimana sono sufficienti. Ricorda di non dare mai la buccia della banana al cane, perché troppo difficile da digerire e potenziale causa di mal di stomaco, vomito, blocchi intestinali o diarrea. Inoltre è da evitare la sostituzione della banana con dolci o snack per umani aromatizzati alla stessa, perché possono contenere lattosio, troppi zuccheri o grassi, ingredienti pericolosi come il cioccolato o additivi. Se vuoi offrire un'altra alternativa salutare al tuo cane, puoi optare per un cucchiaino di yogurt bianco naturale e senza lattosio.